Rimessa laterale per Massari, tocca per Sgueglia, attenzione non trova più il pallone, Nando Basco si propone Chianese, che non aggancia, di Tommaso per Fasciglione, attenzione, caccia, Cervone, fondo, poi a sandwich, anzi no il fallo è di Sgueglia su Pappone, che gioca subito per Nando Basco. Ciccarelli, alza la testa, sale un po', pallonetto morbido, Cervone però di testa lontana, ancora Ciccarelli, di Tommaso, mette giù, prova la finta, arriva Alfano, conquista la rimessa laterale, commento tecnico delle donne junior a fianco a me. Attenzione, intanto Alfano, mette giù, viene chiuso, Ciccarelli rinvia, palla che rimbalza, arriva Gigi Esposito che ride un po'. Pappone, Pappone, per Nando Basco, Basco punta Ciccarelli, Basco finta, sinistro, fuori. Se la chiama, Sgueglia, tutto solo, Bocchetti, palla in movimento. Manicone per Marotta, Marotta saltacchianese. Allarga per Ciccarelli che non aggancia il pallone, fischi per lui. Alfano, palleggio di Basco, poi Massari, contro due, Massari viene chiuso, Cervone, riesce a sfondare, Cervone col destro, prende in pieno addirittura Nando Basco. Poi Marotta, allarga per Ciccarelli. Ciccarelli, palla che rimbalza, esce Manicone. Poi Fasciglione, prova il numero, Sgueglia, direttamente per Manicone, attenzione, la stava facendo la frittata qui Manicone. Ciccarelli, va giù, tutto regolare, Cervone, punta Sgueglia, Cervone destro, deviazione, angolo. Calcio d'angolo, va, Chianese, palla dentro, e Cervone anticipa tutti. No, no, è autogol, è autogol di Sgueglia, 3-0. 3-0, Roman Bratislava, il Liverpool sta soccombendo quest'oggi. Intanto arriva il presidente degli sceicchi, Fruttaldo. 80 milioni spesi per la campagna acquisti di quest'anno. Di Tommaso, per Sgueglia, palleggio, Massari, ancora Sgueglia, Pappone riesce a chiuderlo, arriva Bocchetti. Sgueglia è scivolata, rimessa a Roman, difficoltà in Liverpool. Palla d'Alfano. L'appoggio per Gigi Esposito, attenzione, Chianese. Uno contro uno, chiude Ciccarelli. Gigi Esposito, affrontato da Massari, Pappone, occhio alla sua progressione. Pappone per Chianese, buono l'1-2. La deviazione di Fasciglione però è determinante. Allora Pappone, per Cervone, chiude Massari. Attaccato, Massari. Fallo di Massari. Punizione di Cervone col destro! In buca d'angolo, Matteo Cervone, 4-0. Si mettono male cose per il Liverpool, 4-0. Sgueglia, prova! Fuori. Alfano. Si ripete. Alfano, prova addirittura a tirare in porta. Mura di Tommaso. Rimessa laterale, batte Alfano. Colpo di testa di Ciccarelli. Palla verso Di Tommaso. Mette giù. Viene chiuso. Rimessa laterale ancora per la formazione maglia blu di Ciccarelli. Dentro, attenzione, palla che rimbalza! Gigi Esposito, la blocca. Bocchetti. Parte Bocchetti. Massari su di lui. Bocchetti perde palla. Rimessa laterale, battuta da Liverpool. Di Tommaso scarica per Marotta. Cerca in avanti. Sgueglia. Bocchetti però chiude tutto. Attenzione. Calcione di Ciccarelli. Ciccarelli. Scatenato. Non molla un pallone. Basco. Di prima, di tacco per Cervone. Che invenzione. Pallonetto. Marotta. Sulla linea. Cerbone. Fuori. Qualcosa brutta là. Parte Di Tommaso. Supera la metà campo. Attenzione. Di Tommaso. Cerca Marotta. Marotta per Fasciglione. Pressing della formazione del Roman. Massari. Contro due. Cerbone. Taccola Ibrahimovic. Palla che esce fuori. Marotta. Anzi, di Tommaso per Ciccarelli. Che poi lancia il pallone al vuoto. Pappone. Scende. Chiude di Tommaso. Ancora Pappone. Calcio su di lui. La punizione di Pappone. E si ripete. Pappone. Stavolta serve Alfano. Finta di Alfano. Massari su di lui. Alfano. Sbaglia tutto. Poi parte di Tommaso. Sgueglia. Sgueglia. Attenzione. Finta. Arriva anche Nando Basco in chiusura. Fano. Perde un altro pallone. E c'è Fallo. È un po'... Sgueglia. Prova col destro. Palla sulla barriera. Occhio a Di Tommaso contro Pappone. Finta. Di Tommaso. Prova a giro. E pesca. Un gol meraviglioso. Di Tommaso. 4 a 1. Forse non è finita. Attenzione. E qui a Fano. Manicone. In qualche modo. La tiene lì. Poi Marotta. Vediamo se si galvanizza la formazione del Liverpool. Massari perde un brutto pallone chianese. Prova. Fuori. Sgueglia. Sciabolata in avanti. Bocchetti. Non può fare pure. Si perde tempo. Attenzione. Palla. Temporeggia la formazione del Roman. Teme un po' il Liverpool. Ciccarelli. Attenzione a Di Tommaso. Non si aspettava che l'avversario non prendesse palla. Pappone. Verso Alfano. Palla troppo lunga. Attenzione. Occasione Liverpool. Di Tommaso. Per Ciccarelli. Sbaglia la rimessa. Alfano. Palla dentro. Cerbone. La domestica prova. La rovescetta. E c'è un altro gol spettacolare di Matteo Cerbone. Ne fa un altro applausi a scena aperta di tutto l'Avion. Cerbone. Spettacolare. Un altro gol di Matteo Cerbone. Anche in questa giornata. Regala una perla. Cerbone. Mette giù palla. Va via. Cerbone. Non riesce a saltare l'ultimo avversario. Poi grande apertura di Chianese per Pappone. Attenzione. Pappone. Trovato cento da terra. Si è subito menato per raccoglierli. Di Tommaso. Cerca. Ciccarelli. Non arriva. Alfano. Batte la rimessa. Allontana. Fasciglione. Attenzione. Sgueglia. Riesce a prendere palla. Alfano. Prova da lì. Fuori. Manicone. Palla dentro. Deviazione. Intanto arriva Massari. Alfano prova. Prende pieno il suo compagno. Pappone. Di testa. Salta Alfano. Palla che rimane lì. Massari recupera. Basco. Fallo. Alfano prova a sorpresa. E pesca. Un gol pazzesco. Gerardo Alfano. Alla battuta. Sgueglia. Attenzione. Ancora sgueglia. Sul pallone. Alfano. Arriva Di Tommaso. Esposito. 6 a 1. Dunque il risultato per il Roman. Liverpool ora. Davvero in salita questa partita per i ragazzi del Liverpool. Ci sono stati anche dei gol veramente spettacolari del Roman. Sgueglia. Alla rimessa laterale. Forse ultima chance del primo tempo. Palla dentro. Massari di testa. Gigi Esposito. Con le mani. C'è solo Samuele Faciglione. Poi c'è il buone prova. Fuori. Primo tempo. Finisce così. 6 a 1 per il Roman.